In che modo è legata alla musica napoletana? Dal neomelodico oppure al napoletano, quello classico, diciamo, quello tradizionale? Io sono un po' più per il tradizionale, per il classico, vi dico la verità. Sono legata a Napoli, a una canzone napoletana come tutto il mondo, è conosciuta in tutto il mondo, quindi come realmente tutto il mondo sono legata alle nostre tradizioni, alla canzone napoletana che è meravigliosa, dal classico al neomelodico, al melodico che sia. Certo, certo, grazie per questa testimonianza, ma penso che Maria si sia preparata una valanga di spante per la nostra dottoressa, visto che Mary è una ragazza che ci tiene tanto alla forma fisica, all'aspetto, ma è anche normale, è una ragazza di 20 anni, quindi… Allora, dottoressa, torniamo a noi. Ho visto che lei fa consulenze attraverso i social, come avviene una consulenza nutrizionale? Sì, in verità sto adottando questo metodo a causa della situazione che purtroppo ci siamo ritrovati a vivere, solo per quello, ma ho uno studio, di solito effettuo consulenza allo studio. Le consulenze online sono state fatte per forza di cose, dato che non possiamo incontrarci e quindi per dare una mano anche a distanza a tutti coloro che hanno bisogno di una corretta alimentazione, ma anche dal punto di vista di problemi di salute, che comunque è quello che mi preme maggiormente. Lo faccio in videochiamata, ovviamente con l'ausilio delle persone, con un aiuto delle persone, della persona che mi ritrovo di fronte in più, dato che ha bisogno di misurazioni, lo indico con un metro e gli dico come fare per prendere misurazioni, una bilancia e poi ghiacchieriamo un po' e sistemiamo la dieta. Per fortuna ecco esistono i social. Per quanto riguarda la corretta alimentazione, quali sono gli alimenti da evitare e quali quelli da inserire? Non esistono proprio alimenti da evitare e da inserire nell'alimentazione, ovviamente sappiamo tutti che la frittura ad esempio fa male, le bibite zuccherate fanno male e sono da evitare. Però una tantum, quando capita, non è che anche io mi conceda il dolcino, anche perché… Non abusare diciamo. Ecco sì, le quantità sono fondamentali. Il non abusare è la parola chiave, quindi mangiare tutto è un pochetto, quindi una tantum concedersi che sia una pizza una volta a settimana, il dolcino, una volta ogni due e stare attenta alle quantità, soprattutto. Il dolcino praticamente una volta ogni due settimane avrebbe mangiato. Mentre l'edile lo mangio due volte al giorno. Sì, è brava di solito, dico non mangiatelo, quindi adesso è stata clemente a dire ogni quindici giorni. Ah, bene bene. Dottoressa, io ne volevo fare una domanda proprio sul momento che stiamo vivendo. Praticamente, che le devo dire, l'ozio che noi stiamo vivendo in questo periodo, nel senso che la maggior parte di noi stiamo probabilmente molto fermi, oppure proprio fermi, crea nel metabolismo, nell'essere umano, questa è una mia intuizione ovviamente, una reazione chimica. Praticamente l'uomo in questo periodo, in questa occasione, è tentato sempre a mangiare, ma come si può fare? Ogni pensiero ti porta al cibo, apri il frigo, apri il mobile, apri la busta con i mottini, apri le scatolette, che ne so, di tutto e di più. Come è possibile? Perché si scatena questo nell'essere umano? In teoria adesso è un po' per noia. Quella che mi racconti tu non è una fame fisiologica, noi non percepiamo il senso di fame, quella fame mentale, quindi non abbiamo nulla da fare, apriamo il mobile e mangiamo. Per di più è una valvola di sfogo, quindi non potendo far nulla, non potendo fare una corsa, una passeggiata o fare shopping, prendere un caffè con un'amica o un amico, ci si butta sul cibo e ci si butta su quello. Quindi la fame è tanto per fare qualcosa praticamente? Sì, la fame per noia, l'ho classificata così, qui subentra lo psicologo. Sì, diciamo che lo psicologo realmente dovrebbe lavorare tanto in questa condizione, un po' normalmente già, ma in queste situazioni ancora di più. Dottoressa, vi è capitato di fare delle sedute a distanza come lei sta facendo ultimamente e avendo avuto anche l'ausilio di uno psicologo praticamente, perché in questo periodo penso che forse le persone hanno più bisogno di un sostegno anche psicologico. Sì, 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 io collaboro già con psicologi e psicoterapeuti, ho molti amici tra l'altro psicologi e psicoterapeuti, quindi collaboriamo molto spesso insieme. Non ho avuto modo, vi dico la verità, a distanza di fare ad esempio una videochiamata a trio, ma questo perché è ancora più complicato, ovviamente la persona che mi ritrovo di fronte ha bisogno della sua privacy, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista proprio psicologico ancora di più, quindi è un po' più complicato, preferisco sempre il tetto a tetto, quindi se si riesce a parlare io con lui e poi lui con uno psicologo, psicoterapeuta che sia. Dottoressa, una dieta sana può aiutarci a prevenire l'insorgere di alcune patologie? Assolutamente sì, è quello su cui batto davvero più spesso, perché noi ovviamente parliamo di alimentazione principalmente, ok siamo in linea, siamo in forma, dimagriamo, quindi parliamo solo di dietro e dimagranti per vederci bene, per star bene esteticamente, ma la dieta, la corretta alimentazione è una vera e propria terapia preventiva, possiamo prevenire tantissime malattie, da quelle autoimmuni, faccio qualche esempio, l'ipertrigliceridemia, problemi di trigliceridi, di colesterolo, diabete, possibili l'insorgenza ad esempio di intolleranze dalle più gravi come ad esempio l'intolleranza al glutine, la celiachia, ma anche quelle più lievi come il lattosio e queste sono solo alcune delle patologie preventive, purtroppo ci ritroviamo su un territorio in cui ad esempio la maggior parte, poveri noi, hanno problemi di tiroide soprattutto nelle donne, non tutti sanno che è vero che c'è la predisposizione genetica, la predisposizione a problemi ambientali, fattori ambientali del nostro territorio, ma si può prevenire l'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo anche con determinati alimenti, quindi stiamo attenti perché l'alimentazione è realmente fondamentale per quasi tutte le forme di malattie varie. Io ricordo di una sua diretta dottoressa con altri due professioniste, parlavate della cura della pelle, se non mi sbaglio, proprio agli inizi della quarantena e mi rimase impresso un suo concetto che disse che purtroppo la nostra pelle, anzi la pelle è più a rischio quando un'alimentazione è ricca di conservanti, ovviamente noi in questo periodo probabilmente siamo stati più esposti, ovviamente non solo per la pelle ma per tutto l'organismo, magari a mangiare cose più piene di conservanti effettivamente, per il fatto che non si potesse uscire facilmente è quanto magari era più comodo fare delle scorte di scatolami e cose varie. Sì, assolutamente, la cura della pelle si nota anche dalle creme che noi abitualmente compriamo per la pelle, per l'idratazione e va dicendo, qui le migliori sono ricche di vitamine, ad esempio non so, non posso dire quali, però ce ne sono alcune che sono sicuramente meglio di altre, comunque le vitamine sono fondamentali. Magari dopo ce le puoi scrivere in privato, grazie. Sì, dopo le segno. Grazie, gentilissima. Dottoressa, che ruolo hanno gli ormoni sul peso e sul percorso dimagrante? Ah, questa scusate dottoressa è una domanda importante perché i suoi sono impazziti, per questo lei vuole saperne di più sugli ormoni? Bisognerebbe capire in che senso sei impazziti, quanti anni hai? 27. Ah, di più, di più, di più. Allora, perfetto. No, perché ci sono ragazze che per l'appunto seguono delle diete, però non riescono ad immagrire per colpa degli ormoni? A volte si dà colpa agli ormoni perché si sbagliano determinati concetti fondamentali in una dieta, si dà molto colpa agli ormoni, al metabolismo che sia, certo sono dei fattori che possono essere collegati, ma molto spesso anche delle piccole cose, delle piccole abitudini noi le sbagliamo e quindi non dimagriamo, ovviamente. Vogliamo trovarci un alibi, vogliamo trovarci, crearci. Sì, la maggior parte voglia di nuovo, vuole trovarsi un alibi e quindi no, ma io ho il metabolismo lento, ok? Il metabolismo lento ci sta, ma possiamo tranquillamente accelerare il metabolismo come si fa con corretta alimentazione, con corretta idratazione e con attività fisica. Ecco, il metabolismo lento, cosa si intende per il metabolismo lento? Il metabolismo è un nostro processo fisiologico, non sto qui a raccontare cosa, in che cosa consiste nel dettaglio, però in effetti quando noi parliamo di metabolismo è una condizione fisiologica, una condizione del nostro corpo che ci permette o meno di consumare, di assorbire, di assimilare gli alimenti con velocità o con meno velocità, quindi dipende molto dalla velocità di assimilazione e di eliminazione di questi alimenti che noi assumiamo con l'alimentazione. Quindi lo sport ci aiuta anche a velocizzare il metabolismo? Ci velocizza tanto il metabolismo, ovviamente c'è bisogno sempre dell'abbinamento con la corretta alimentazione, si può tranquillamente velocizzare, è vero che con l'età può ad esempio andare a rallentare il metabolismo, è vero che ad esempio le condizioni ormonali soprattutto nelle donne, perché noi purtroppo donne siamo soggette maggiormente a disfunzioni ormonali, però ciò non vuol dire che non si può dimagrire. Quindi praticamente è abbastanza soggettivo, da soggetto a soggetto il fatto della velocità del metabolismo o meno. Sì, molto spesso si rallenta anche a causa di diete sbagliate fatte in continuazione. Ah, quindi di trascorsi sbagliati e quindi si sballa un po' tutto quanto. Dottoressa, le volevo chiedere un parere, e allora per esperienza personale ve lo sto parlando, per questo e so, no no no, mi parlo perché è stata una professionista che mi ha consigliato questo metodo per un brevissimo tempo, dove io effettivamente ho avuto veramente degli ottimi risultati eccellenti e poi velocissimi. La dieta chitogenica, siccome io sono stato la nutrizionista, ovviamente qui nel mio paese è normale, cioè ovviamente più vicino a casa mia e sono stato da una grande professionista che sicuramente sarà una vostra collega perché è anche lei molto brava come voi. Niente, mi suggeri questa dieta ed effettivamente, però io ne sento parlare tantissimo in giro e vogliamo spiegare pure il fatto che è praticamente un trattamento da poter fare in breve tempo e perché, perché sono persone che poi continuano, continuano all'impazzata, perché in gava allora poi, diciamo, questa cosa li porterà al raggiungimento veloce del peso forma. Sì, 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 adesso va un po' di moda da qualche tempo, per questo che comunque tutti noi la conosciamo. Ovviamente ci sono anche tipologie differenti di chitogenica, non si può fare di tutta n'erba un fascio, io ad esempio la tratto, ovviamente la tratto laddove posso trattarla e la tratto sotto forma solo ed esclusivamente con l'alimentazione, ci sono colleghi che invece utilizzano pasti sostitutivi, quindi non con mancanza ad esempio di pasti sani con l'alimentazione stessa. Io non sono d'accordo da quel punto di vista e per questo che dicevo ci sono tipologie varie. Io la mia chitogenica la faccio solo esclusivamente alimentare, con delle modifiche ovviamente perché la dieta deve essere soggettiva, quindi in base alle condizioni della persona la cuccio a pennello. Ovviamente come mi dicevi non può essere dilungata per tutta una vita, ma soprattutto perché si impazzisce, vi dico la verità, non è che abbiamo bisogno a un certo punto anche di carboidrati e zuccheri, dato che la chitogenica ci elimina del tutto gli zuccheri e ci riduce le quantità di carboidrati giornaliere e settimanali che siano, il nostro cervello a un certo punto richiede proprio un minimo di zuccheri e quindi non potremmo farla. Quindi voglio fare complimenti a questa dottorista perché anche lei la chitogenica che mi ha fatto praticamente è stata solo alimentare, senza aggiunti, senza integratori e infatti veramente io sono dimagreto, in 20 giorni 10 chili. Ho indossato un abito che praticamente non avevo proprio idea di indossarlo quel giorno e quel giorno mi andava non bene, di più Però diciamo anche che comunque devi mantenere una corretta alimentazione perché ne prendi altri 40 voi. È fondamentale il mantenimento, nella fase dimagrante non è importante quanto alla fase di mantenimento. Quello che ripeto a tutti, ovviamente l'80% non ci arriva al mantenimento perché si vedono dimagriti e quindi lasciano stare, ok basta è andata, è il problema che mi si ritornano qualche, anche un anno dopo dicendo io poi ho ripreso i chili, ma la fase successiva al dimagrimento è quella fondamentale che ci permette di mantenere il peso costante per tutto il tempo. Dottoressa, noi siamo bombardati ogni giorno da mille diete, ognuna che promette miracoli, buttate diciamo quelle là un po' così sui social per dare notizia. Quanto sono dannose per la salute? È quello che dicevo anche prima, in minima parte rallentano il metabolismo, ma quella è davvero il danno minimo, ci sono problematiche causate da utilizzo di prodotti, utilizzo di pasti sostitutivi che sono stati attestati, sono stati accertati anche da me, problemi di disfunzioni ormonali, davvero dovete stare attenti, non dovete stare lontani da quel che sono tutte le diete miracolose, perché non esiste una dieta miracolosa, esiste la volontà, la costanza, l'impegno e soprattutto la professionalità, quindi rivolgetevi comunque sempre a degli esperti, non andate su internet, su Google a cliccare dieta dimagrante, dieta miracolosa, la dieta del riso, la dieta del pollo, che sia. La dieta dell'anno, la dieta del coronavirus e tutto quanto, ecco qua, diciamolo proprio chiaramente, lanciamo questo chiaro messaggio, ovviamente ci sono i nutrizionisti, ci sono dottori specializzati per la dieta e non nascono e non si laureano per caso, ma proprio perché ovviamente c'è una regola precisa, perché ovviamente succedono tanti guai, tanti guai e quindi il messaggio è che dovete fare la dieta, dovete contattare un professionista. Dottoressa, la dieta mediterranea è la più sana, quella più equilibrata diciamo? La dieta mediterranea in effetti si è quella conosciuta in tutto il mondo, è quella che è stata accertata come la più equilibrata, la più sana, il problema è che noi ci stiamo un po' allontanando da quella che è realmente la dieta mediterranea, ci stiamo americanizzando, ci stiamo prendendo un po' tutte le abitudini sbagliate degli altri paesi, un aumento proteico per esempio, il mangiare tanta carne non era tanto a tempo addietro indicato nella dieta mediterranea, la dieta mediterranea è una dieta basata su fibre, quindi verdure, frutta, legumi di base, quindi dovremmo un attimino ritornare alle origini e rivedere la dieta mediterranea effettiva. Però dottoressa, scusate, mi succede il fatto che praticamente anche la dieta mediterranea, cioè nel senso il nostro modo di alimentarci, di nutrirci, perché questo è fondamentalmente la dieta mediterranea, anche fatta in modo smisurato ovviamente può fare ingrassare, assolutamente, perché il nostro modo di mangiare è quello che noi abbiamo sulla nostra terra, ma fondamentalmente la dieta mediterranea, se è fatta in modo proprio a tir, come quantitativi, è normale che poi diventiamo, noi diventiamo poi il garage del tir, ancora più grossi. Se mangiamo un chilo di pasta, anche se con le zucchine al giorno ovviamente, c'è da questa sentire che metteremo peso. No vabbè, ma io ho fatto un chilo di pasta, ho messo solo due zucchine dentro, una cosuccia così, e manco nemmeno un po' di, anzi un cucchiaino di oro a crudo, ma ci hai lasciato un po' di cucchiaino di oro, forse. Dottoressa, noi a volte confondiamo il dietologo con il nutrizionista, ci aiuta a capire la differenza? Sì, come no. Allora, io sono biologa nutrizionista, quindi laureata in biologia e specializzata in nutrizione. La laurea mia è differente da un dietologo, il dietologo è un medico, poi specializzato in nutrizione. C'è anche un'altra figura che è il dietista o la dietista, che ha un'altra laurea, ha una triennale e quindi stiamo parlando di tre figure professionali che ovviamente di base fungono la stessa funzione, ma abbiamo delle differenze sostanziali a livello un po' di pensiero, di idee, ma anche di studi poi fatti precedentemente a livello universitario di master che siano. Ah, quindi anche in quell'ambito ci sono i partiti e quindi i vari modi di pensare. Sì, per fortuna. Dottoressa, noi la ringraziamo, è stato un piacere, un onore, grazie mille per tutte queste informazioni che in questo periodo veramente servono tanto. Grazie, buona serata. Un bacio. Un bacio. Un bacio, buona serata, arrivederci. Mi raccomando le creme, dottoressa, lasciateci un messaggio. Un bacio per gli occhiai e la pelle fantastica e fabulosa. Per l'azione, le occhiaie. Grazie, grazie, aspetto le sue notizie. Grazie. Buonasera. Buonasera, un bacio. Buonasera, un bacio.